bentornati a quella zampa ecco oggi di zampe non ne vedremo perché la puntata la dedichiamo ad un animale meraviglioso che è il serpente ecco ce le mani in questo momento giuro la prima volta in vita mia e si dice che siano pericolosi è vero questa cosa assolutamente questa specie nello specifico il pitone reale è un animale molto pacifico molto timido non potrebbe assolutamente nuocere a nessuna persona e sono leggerissimi sono freddi sono finché non diciamo non li prendi in mano non ti rendi conto esattamente di come esatto sono i maschi tendenzialmente sono più piccoli adesso abbiamo due esemplari maschi solitamente vanno intorno al chilo e mezzo massimo per un metro e venti di lunghezza massima sono animali a sangue freddo quindi devono ricevere calore dall'esterno per poter gestire le loro funzioni biologiche l'ambiente ideale per loro allora l'ambiente ideale loro vanno posti in terrai che non sono necessariamente troppo grandi perché sono animali molto timidi nei spazi tanto aperti andrebbero in stress come fonte di calore è necessario un tappetino riscaldante una base perché in natura sono animali fossori quindi vivono nelle tane ricevono il calore solo dal terreno c'è da avere particolari cura particolari diciamo accortezza immagino non è certo come avere un gatto allora il problema fondamentale di questi animali è che spesso e volentieri dei venditori degli elevatori poco seri tendono a vendere l'animale correlato di una serie di accessori che possono essere inutili se non addirittura dannosi nella fattispecie pitone reale non ha bisogno di nessun tipo di lampada spesso ci sono episodi appunto di scottature o episodi anche più gravi proprio perché arrampicando si tendono a ostionarsi sulle lampade basta un semplice tappetino una tana dove potersi rifugiare durante il giorno perché la loro vita è prevalentemente notturna e una grande vasca d'acqua dove se vogliono si possono immergere e oltre ad abbeverarsi per regolare le loro funzioni della temperatura corporea diciamo che comunque il concetto è sempre quello si tratta di un essere vivente di un animale che quindi è un essere vivente non lo si prende come giocattolo assolutamente no sono animali che vanno tenuti in una maniera molto molto accorta quindi non è un giocattolo però oggi volevamo farvelo conoscere riprenderemo sicuramente questo argomento che è vastissimo vi lascio invece con l'adozione della settimana perché loro non si adottano e lei è mandorla è diciamo la rappresentante di otto cuccioli che sono all'assad che sono stati vaccinati sverminati pronti per essere adottati da tra una decina di giorni ecco mandorla è l'esempio di come non serve comperare un cane perché l'amore non si compera e quindi se avete il cuore l'animo e lo spirito e la volontà di prendervi una creatura non serve assolutamente tirare fuori il portafoglio perché ce ne sono di tantissime che aspettano e sognano una casa ci vediamo la prossima settimana ciao 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 ciao